Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dell'estrazione del Super Enalotto. La vincita del jackpot dello scorso concorso rappresenta il centottesimo premio di prima categoria assegnato nella storia del Super Enalotto. Oggi, martedì 27 maggio, si riparte con un nuovo jackpot. Chi possiede infatti la ricevuta della giocata del Super Enalotto può vincere 6.277.557 euro. Sono già iniziate le operazioni relative al concorso numero 63. Le 90 sfere numerate per la sestina vincente del numero jolly sono state caricate. Ed ora con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo il via all'estrazione di questa sera. Le sfere sono scese nell'urna elettronica che inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo a scoprire insieme il primo numero della sestina vincente. Il primo numero estratto è il numero 66. Proseguiamo con il secondo numero di questa sera. Il secondo numero estratto è il numero 37. Dal terzo numero si inizia a vincere. Il terzo numero estratto è il numero 53. E aspettiamo il quarto numero che ci porta verso premi importanti. Il quarto numero estratto è il numero 32. Quinto penultimo numero. Il quinto numero estratto è il numero 83. E con il sesto numero si completa la sestina vincente. Il sesto numero estratto è il numero 52. Abbiamo ora i sei numeri che possono segnare il jackpot. Passiamo quindi all'estrazione del numero jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria. Il numero jolly di questa sera è il numero 87. E controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly. 66, 37, 53, 32, 83, 52, numero jolly 87. Ed ora passiamo al numero superstar. È il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente dal terminale di gioco. Già al momento della convalida della giocata può far vincere premi istantanei da 5 euro fino a 10.000 euro. La sua estrazione avverrà grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90. E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che il numero superstar premia anche lo 0, l'1 e il 2 e moltiplica 25 volte le vincite del 5 e 100 volte quelle del 4 e del 3. Il numero superstar di questa sera è il numero 38. Ricontrolliamo insieme tutti i numeri del concorso numero 63 del super enalotto con la sestina vincente in ordine crescente. 32, 37, 52, 53, 66, 83, numero jolly 87, numero superstar 38. E l'estrazione di oggi, martedì 27 maggio, è terminata. Tra pochi minuti scopriremo insieme se il jackpot di oltre 6 milioni di euro è stato assegnato ad uno più vincitori. Io vi aspetto sempre qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna. Ben ritrovati qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna. Poco fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti del concorso numero 63, che vi ricordo ha messo in palio il jackpot di oltre 6 milioni di euro. E anche questa sera il super enalotto ha per voi numerosissimi premi. Abbiamo infatti 54.410 vincite. Ma è il momento di scoprire insieme se questa sera ci sono uno più vincitori del jackpot. E il computer ci comunica che non è stato realizzato il 6 né il 5 più 1. I 5 sono 5 e vincono 42.016 euro ciascuno. I 4 sono 461 e vincono 459 euro ciascuno. I 3 sono 19.645 e vincono 21 euro ciascuno. Ed ora passiamo al superstar, il numero stella che moltiplica le vincite del 5, del 4 e del 3 e premia anche con 0, 1 e 2 punti. Questa sera abbiamo un 5 stella, il quarto dall'inizio dell'anno, realizzato nella ricevitoria Sisa di Piazza dell'Ortigara 14 a Viterbo. Tantissimi complimenti! Ed ora vediamo nel dettaglio tutte le quote. L'unico 5 stella si aggiudica 1.050.420 euro. L'unico 4 stella vince 45.908 euro. I 3 stella sono 85 e vincono 2.146 euro ciascuno. 100 euro vanno i 1.408 due stella, 10 euro vanno i 9.489 uno stella, 5 euro vanno i 23.315 zero stella. Ed ora andiamo insieme a scoprire il prossimo jackpot. 6.700.000 euro! Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Il Super Enalotto vi dà appuntamento a giovedì 29 maggio, sempre qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna. Il Super Enalotto vi dà appuntamento a giovedì 30 maggio, sempre qui suive la visione a giovedì 30 maggio.